Facciamo un pezzettino, ti vuoi rimanere qui un attimo, della canzone che poi la sfumiamo, dai vi presento solo un pezzettino di Nell'anima e poi partiamo con tutto Cerco il mio posto nel mondo, sogno di averti qui accanto Cerco un amore più intenso, che rende la vita un incanto Sento il profumo di te, la voglia di te, la notte mi salva e mi porta da te Il profumo di te, che resta su me, lo sento la notte e il giorno non c'è Non c'è, non c'è, ma adesso non c'è, non c'è, non c'è Prendimi nell'anima e accettimi di grande amore Toccami nell'anima e portami dentro al tuo cuore DJ grazie, puoi sfumare E dentro i nostri mister può entrare il numero uno Che è Francesco Guarino Naturalmente hai preso mister elegante Fai partire la base Eccolo qua, Francesco Guarino, vieni vicino a me Dubai Salutiamo la nostra Google Gypsy Numero uno, ricordate che qua votate da 5 a 10 Numero due Mario Martinelli Fatemi vedere bene dalla giuria Numero tre Nicolas Contessi I ragazzi si contenderanno Mister Milano Numero quattro Zeng Giulia, siete attenti Con la pena Odessa che l'hai in tutto posto Eccolo qua, vieni al centro Fatti vedere bene Zeng Anche letto, grazie Numero cinque Andres Chavez Che sfidano su questa serata organizzata da Production Team Numero sei Spero di dire bene il nome Silla Kadim Eccolo qua Numero sei Numero sette Signori del pubblico Fatevi sentire un attimo che non mi sento Ragazzi dai questa Fate un applauso a questi ragazzi Dai Signore sono giovani Sono carini Di belle speranze Sette Davide Tutrona Sono tutti dei bravi ragazzi Numero otto Lorenzo Adolfi Ah io volevo dire una cosa Lorenzo Adolfi Eccolo qua Però Aspetta Aspetta devo dire una cosa Io come vedete Ho Grazie Lorenzo Ho addosso questi gioielli Sì dall'altra cosa Il numero Vediamo se siete attenti Al numero 9 Già chiamato Giusto? No Il numero 9 Mirko De Luca Eccolo qua Via la base ancora dei Dei maschietti Elegante Eccolo qua Mirko De Luca Mirko De Luca Cede il passo a Luca Gugini Luca Gugini Fatti vedere bene Luca Mirko avanti Non scappare subito così Grazie Andiamo avanti con Ahmed Ahmed dove so bene? Ahmed Eccolo qua Ahmed Ahmed Numero 12 Vincenzo Cataldo Che partecipa qua A Mister Milano Andiamo avanti con Il prossimo concorrente Daniele Molina Che è il numero 13 Che cede il passo A Pier Giorgio Peroni Anche lui Cara Giulia E cari detti A voi Vuole fare l'attore Ed è anche Un ragazzo Molto interessante Giusto? Vuoi fare l'attore E tu vero? Siccome il production team È vicino ai talenti Emergenti Facciamogli dire una parola Cosa vuoi fare Tu di bello? Nella vita L'attore O qualunque cosa sia Nel mondo Allo spettacolo Stai studiando Per fare l'attore? 5 anni C'è anche Vagio teatro 5 anni di teatro Bene Abbiamo fatto dire due parole Perché è giusto dare spazio Un po' a tutti Andiamo avanti con Bernard Bernardo Shepard Eccolo qua Fatti vedere Bernardo Shepard Bene Andiamo avanti con Mattia Patelli Non si vede qua Mattia Patelli Eccolo qua Fai un passo avanti Ti vedono meglio Andiamo a numero 17 Daniele Bisanti Daniele Eccoti qua Fatti vedere Mettetevi dove c'è la luce bianca Che vi vedono Numero 18 Alessio Napolitano Numero 18 Vanessa Gray Tutto bene? Eccolo qua Il nostro numero 18 Alessio Napolitano Numero 19 Joan Camilo Perez Facciamo un applauso ragazzi A tutti quanti Joan Camilo Perez Eccolo qua E infine Un altro mister Lorenzo Bazzuro Bene E lui chiudeva La carrellata di mister Andiamo avanti Se mi abbassi Allora DJ Ci sei? Allora Passiamo alla base Delle donne Elegante miss Mi tieni la base Leggermente più bassa E partiamo subito Con le miss Che si aggiudicheranno stasera Le tre fasce di miss Protagonista La numero 1 Adele Pellizzari Eccola qua Adele Pellizzari Il look è stato scelto direttamente Dalle ragazze Cara Isabella Svog 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 Paucheri Evertu Bioti Adele Pellizzari Eccola qua Numero 2 Camilla Dependi Eccola qua Un'altra delle nostre miss Mia cari miss C'è un po' di vento Meno male Numero 3 Alice Peter Ringraziamo il The First Tutto lo staff Il DJ Alice Peter La numero 3 La numero 4 Un'altra bellezza C'è solo l'imbarazzo della scelta Denisa Ambrosa Eccola qua Numero 5 Giulia Casagrande Eccola qua Numero 5 Giulia Casagrande Numero 7 Perché la numero 6 Non c'è Marsha Licati Numero 7 Marsha Licati Numero 8 Camilla Lecchi Numero 8 Numero 9 Tina Matasai Numero 9 Numero 10 Angela Petolino Il lungo è stato scelto Dalle ragazze Numero 10 Angela Petolino Numero 11 Manuela Fagano Production Team Eventi Moda Spettacolo Eccola qua Dall'altra parte Amore Allora Numero 12 Stefania Crochia Numero 12 Stefania Coppia Numero 13 Maddalena Zanassi Numero 14 Numero 14 Giulia Azzurro Numero 15 Numero 15 Dediciamo Bege Diaz Eccola qua Vieni qui Fatti vedere bene Eccola numero 15 Numero 15 Numero 16 Annalisa D'Arca Numero 18 Non c'è la 17 Camilla Moretti Ricordate che dovete scrivere un voto da 5 a 10 Numero 19 Sabrina De Angelis Sabrina De Angelis Eccola qua Sono tutte carine Come i ragazzi alle prime armi Eccola qua Sabrina De Angelis Numero 21 Numero 21 Noemi Ceraolo Numero 22 Francesca Montaruli Come potete vedere alcune di queste ragazze indossano degli accessori tabù Grazie Irina Bodanova Bellissimi questi gioielli tabù Su queste bellissime ragazze Numero 23 Fiammetta D'Ozizio Eccola qua Andiamo alla numero 24 Marika Lassetta Qua Miss protagonista Di Production Team Un'agenzia vicina Si vuole entrare nel mondo dello spettacolo E i televisi emergenti Che organizza queste serate per dare visibilità a queste ragazze Andiamo avanti con questa concorrente Sai lì che si deve presentare Aspetta Fiammetta Ma tu sei? Marika 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 Nicola Marika Andiamo Anche